La realtà delle nostre divisioni deturpa la bellezza dell'unica tunica di Cristo, ma non distrugge completamente la profonda unità generata dalla grazia in tutti i battezzati. L'efficacia dell'annunzio cristiano sarebbe certo maggiore se i cristiani superassero le loro divisioni e potessero celebrare insieme i sacramenti e insieme diffondere la parola di Dio e testimoniare la carità. Con queste parole Papa Francesco ha accolto in Vaticano alcuni membri dell'Alleanza Evangelica Mondiale esprimendo soddisfazione per tutte quelle iniziative volte a chiarire i malintesi passati e a mostrare nuove vie per superare i pregiudizi. Per portare il Vangelo fino agli estremi confini della Terra, aggiunto il Pontefice, i discepoli di Cristo si devono riconoscere pienamente fratelli nel battesimo, trovando consolazione nella certezza che il Regno di Dio sempre ci precede, come pure ci precede il mistero dell'unità della Chiesa.